Non si ferma il processo di riorganizzazione della Lega che ha coinvolto quasi tutte le regioni meridionali, compreso il Molise. Matteo Salvini infatti ha sostituito il coordinatore Luigi Mazzuto con il deputato Lombardo Iari Colla. Ringrazio Mazzuto per il grande impegno di questi anni e per i risultati che ha ottenuto e che continuerà ad ottenere come assessore regionale, ha scritto Matteo Salvini in una nota, augurando buon lavoro al nuovo coordinatore. Dal canto suo Luigi Mazzuto ha accettato con tranquillità la decisione e ha rimarcato che continuerà a lavorare per il carroccio e soprattutto per espletare al meglio le funzioni di assessore regionale al lavoro e alle politiche sociali. Credo che tutti i processi hanno il loro tempo. Il tempo del pionierismo è finito, ora la Lega è il primo partito a livello nazionale, non solamente più nell'intenzione di voto perché gli europei l'hanno sancito col voto degli italiani e pertanto c'è la necessità di riorganizzarsi e radicarla strutturalmente sul territorio. E quindi c'è la necessità, così come è stato successo anche in tutte le altre regioni, di un elemento esterno che sappia cogliere, valutare e mettere insieme tutto quello che la regione di meglio può offrire partendo dai giovani, dal gruppo giovane per il quale io mi sono speso e che ritengo sia presente anche in questa regione. Luigi Mazzuto, lo ha detto chiaramente, Matteo Salvini resterà assessore esterno nella giunta di Donato Toma. Sì, certo, assolutamente, credo che la fiducia racchiusa in questa dichiarazione la dice lunga. I processi di crescita vanno assecondati e supportati e non vanno osteggiati. Io sono fiero di aver messo in piedi la Lega in questa regione, sarò ancora più contento, felice, ultra felice, vederla concretizzata e quindi anche materializzata nella forma oltre che nella sostanza. Naturalmente, spetta al Presidente Donato Toma e non a Salvini, ogni decisione sulla composizione della giunta e sulla permanenza nell'esecutivo di Luigi Mazzuto resta da capire quale sarà la reazione di alcuni consiglieri regionali in procinto di salire sul carroccio da sempre critici con l'operato dell'assessore leghista. E' pensabile un ritorno dei due consiglieri regionali, Romagnolo e Calenda, all'interno del partito? Ma guardi, queste sono valutazioni politiche e non tocca a me farle. Il buon senso, il ragionamento, le valutazioni e tutto quello che potrà fare il nuovo coordinatore sarà compito suo stabilire, insieme ovviamente a delle direttive della Segreteria nazionale, chi può e chi deve e chi non deve tornare, se deve tornare. Saprà lui valutare quali sono le risorse migliori per rilanciare e rilanciare forte la Lega anche in questa regione. Grazie Grazie Grazie